segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te inizio perché domani alle 11 in diretta la 7 noi ovviamente seguiremo tutto caro fabrizio roncone tu che sei un attento frequentatore lo racconti del palazzo a questa giorgia belloni che si prepara domani alla conferenza stampa e a questo confronto con i terribili giornalisti coi nostri terribili colleghi non proprio tutti terribili però insomma diciamo sarà una conferenza stampa di io credo interessante perché tanto la meloni è una che risponde quindi noi spesso accusiamo i politici di essere reticenti lei è una che sta sul pezzo che battaglia quindi da questo punto di vista promette qualche scintilla la conferenza stampa dopodiché è chiaro che è una conferenza stampa di estremo interesse per quello che è successo nelle ultime settimane soprattutto alla vigilia di natale perché è chiaro che c'è un prima e un dopo quello che è successo con il voto al mess è chiaro che a questo punto la meloni dovrà diciamo a due fronti diciamo le domande secondo me avranno due fronti un gruppo di domande sarà una batteria per capire che cosa intende fare la meloni nelle prossime settimane per smarcarsi dal pressing duro di salvini perché salveni l'ha trascinata come sappiamo in questo voto contrario al mess la meloni sarebbe stata più propensa a un voto di mediazione a una trattativa invece questo no secco e la trascina dentro un problema gigantesco con l'europa e qui si apre il secondo fronte di domande perché intanto che cosa vuole fare la meloni con salvini come intende controllare le aggressioni diciamo politiche di di questo suo presunto alleato da qui alle europee e poi c'è il problema il fronte che ormai è aperto con l'europa perché non è che i mercati l'europa brussell si dimenticano di questo voto con il messo ora io non so se è vero quello che scrivono alcuni miei illustri colleghi e cioè che diciamo l'europa è pronta a tremenda vendetta ma insomma certo che non se la dimenticano questo non sono dimenticano questo passaggio che annebbia un pochino e nei fatti questa figura diciamo così europeista che aveva cercato di accreditare finora il nostro premio benifei europarlamentale